Che fine ha fatto Francesco Checco Moriero? All'Inter dal 97 al 2000 è diventato iconico per le sue doti tecniche, ma anche per il gesto dello shusha con cui omaggiava il compagno di squadra che aveva segnato un gol. Oggi Moriero fa l'allenatore ed è il commissario tecnico della Nazionale delle Maldive. Poteva andargli sicuramente peggio. Iscriviti al canale subito, ci vediamo tutti i giorni in diretta su YouTube alle 19.30.